E' una fiera che inizia un percorso di rinnovamento a tutto campo, su tutti gli aspetti, dalla grafica all'accoglienza del pubblico e dei collezionisti, al modo di ingaggiare le gallerie, sapete che abbiamo chiesto di portare un numero ridotto di artisti per ogni stand, fino al programma culturale, che include per esempio, per la prima volta per questa fiera, una grande mostra delle collezioni istituzionali pubbliche e private di Bologna e dell'Emilia-Romagna. Il baricentro, se così posso esprimermi, di arte fiera storicamente è nel moderno e nel contemporaneo storicizzato e questo dato non cambierà con la mia direzione perché penso che sia un punto di forza. Quello che, casomai, vorrei affinare è l'offerta di contemporaneo di tendenza della fiera e penso che già quest'anno si vedano dei segnali significativi in questo senso, con dei ritorni di gallerie di ricerca che mancavano da alcuni anni e la prima volta, il debutto ad arte fiera di gallerie di tendenza che non c'erano mai state prima. Grazie a tutti! Grazie a tutti!